È iniziata la fase di alleggerimento del campo di accoglienza per migranti di Via delle Tagliate, con il trasferimento di 70 ospiti in strutture comunali sparse in tutta la provincia. La prefettura, come preannunciato nei giorni scorsi, ha coinvolto la quasi totalità dei comuni, trovando, anche grazie all'ausilio della Diocesi di Lucca, 70 posti letto, riuscendo a coinvolgere anche numerosi comuni versilesi, che in un primo tempo erano stati accusati di scarsa collaborazione rispetto al tema dell'accoglienza. La novità, io direi, che sta nei comuni della Versilia, che attraverso un dialogo, diciamo, diretto con i sindaci, ai quali io ho consigliato di portare all'attenzione del Consiglio Comunale, e comunque vada poi il risultato di accogliere o meno questa volontà di accogliere i migranti. E penso che sia stato vincente, perché comuni come Via Reggio, Camaiore, Seravezza, e anche Forte dei Marmi, è proprio di queste ore la notizia concreta che a giorni ospiteranno i migranti. Le nuove disponibilità riguardano i comuni di Barga, con 12 posti, Camaiore con 8, Capannori con 5, Massarosa con 11, Pieve Fosciana con 6, così come Porcari. Seguono Vagli di Sotto con 8 posti e Forte dei Marmi e Via Reggio con 10. Restano ancora da sciogliere i nodi dei comuni che ancora non hanno dato disponibilità di posti, primi tra tutti Alto Pascio, Monte Carlo e Pietrasanta, e per i quali la prefettura sta ancora mediando, per riuscire a riportare la struttura di Via delle Tagliate ad un massimo di 60 persone smistabili.